Ragazzi benvenuti in questo nuovo video Raga Ole e io Devo parlare Sì però io devo fare il video Ok anche io Cioè non io Allora io ho fatto un video di non so quanti minuti 32 minuti Di minecraft No 36 minuti In sopravvivenza Spero che lo guardate Ma non lo vedrà nessuno Perché era molto bello Era il titolo è Anzi non vi spoglierò niente No no Andate a guardarvelo E non vi spoglierò Eh non hai detto le visualizzazioni Quante visualizzazioni deve arrivare Allora Per la seconda parte 10 dai 5 5 E ora Va bene va bene va bene 5 Non si arriva nessuno a 10 Va bene 5 Questo è Un Stiamo solo Noi siamo Noi siamo Bravissimi bambini Ragazzi Bravissimi ragazzi Che Bravissimi ragazzi Che Io vi faccio subito La seconda parte Tipo vi faccio 5 io Così vi faccio subito la seconda parte Se vi piace Vai Iniziamo Villana Glaga Peccato che Non abbiamo TikTok Era un intro Cioè ce l'abbiamo Allora Io non mi ricordo come si gioca Devi prendere Devi diventare più grande del mondo Degli altri Va bene Iniziamo malissimo Devi trovare dei pali Boh Ecco Guarda Mangia Guarda quello là Mangiatene pasta Sto asciutto Grazie Manco una hai mangiato Ne dovete mangiare I bidoni I bidoni I bidoni Però stai piano Che puoi rallentare Sei diventata ancora più grande Wow Non te lo ricordavi No io me lo ricordavo Allora raga Questo era per No 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 Non mi ammazzo No 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 Calmo Quello si che ti usiva Stati calmo Oh No 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 Ti vuole mangiare Ti vuole mangiare Ciao Ciao io non ho fatto niente E alla fine È morto Ma Muina Mamma mia ragazzi Ma indovina No 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 puoi continuare Click to continue Ah sta pubblicità Ragazzi Ragazzi io mi faccio un video Diamo un gas Mamma gas Chi lo conosce neanche lana Guarda guarda Lana si che lo conosce Guardate qua ragazzi Ma dobbiamo fare meglio Ma qua la dieta Mi piace le polpette Mi piace anche le polpette E se mangiante quattro Tengo a fa messo anche sette Usa le notte Musate a casa vostra Chiamate pa ma Veste una mezza E se poco rama pisa Una pisa la bilancia Poco qualche botte Vediamo la classifica ragazzi Quarto 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 Calmi 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 Serenità Allora Mi piace sto gioco adesso Allora se arriviamo a 15 visualizzazioni Faremo la Farò la seconda parte Però è bellissimo sto gioco No 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 Per favore No 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 Per favore A poco a poco Si Una poca Una poca Pizzata Pizzata Caramellata Per me Sono quarto ragazzi Sono quarto Sono quarto Fino al primo tempo Ci vediamo al secondo Allora Uh Ciao Io voglio crescere di più Però Mi mangio sto palo Mi mangio sto palo Mi mangio sto lampo Mi mangio sto palo Raga sempre quarto sono Non riesco a camminare ragazzi Una zoppela da quantità Quinto Quinto ragazzi Quinto Ma come si fa da arrivare quinto Come si fa No è troppo difficile Sto gioco ragazzi Se volete provarlo Si chiama Hole io Però è difficilissimo ragazzi Di super difficile Super super difficile Super difficile Allora iniziamo Allora sto ballo già L'ho mangiato Ho mangiato questo Ho mangiato questo Ho mangiato questo Ho mangiato forse questo Si ok Non posso mangiare questo Ma mangio questo Una zoppela da quantità Si pigliano per me Ma che te la vorrei Si poche sti pulpette Mi mangiare come frugioi Ma poche poche sì Ma poche scuppe Ma poche pizza frittica Ha giù sono Stavo per andare a mangiarlo. Mi piace questa canzone a me. Ma quale dieta? L'inno portafortuna dell'Italia. Oggi ragazzi gioca l'Italia. Stasera. Alle 9 e meno un quarto. Forse faremo la live. No, forse faremo il video dell'Italia. Vabbè che l'Italia è campione d'Europa. Scusate che non abbiamo fatto il video della reaction. Però ragazzi, le qualificazioni dei mondiali non me le perdo mai. Le partite dell'Italia o della Juve io non me le perdo mai. Può capitare che mi perdo uno. Oh, sono arrivato terzo. Terzo... Terzo, terzo. No. E dai. No, ti devo dire... Vabbè, terzo ragazzi. Farò mille visualizzazioni su quello di Valle. Vabbè. Spaccherò. Raga, sono arrivato terzo. Come si chiama sto gioco? Eh... Olè io. Olè punto io. Olè, 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 olè io. Non così, con la H. O, H. Sono arrivato terzo e per me va bene ragazzi. L'importante è che non arrivo ultimo. Ultimo io proprio, se no. Arrabbiatissimo e chiudo il video. Fa per punto io. Ah, sì, quel gioco là. Qual è? Quello non mi piace. Fa per punto io non mi piace a me. E' quasi impossibile vincere però alcuni youtuber ci riescono. No, perché te lo sei mangiato tu quello. Beh, io mi mangio le persone. No, le persone non... Dai, mangio questo. Le persone non fanno tanto. Ok. Le persone non facevano tanto. La macchina, la macchina, la macchina. Provo. La macchina. La sto provando a mangiarla. Un'altra, un'altra, quella. Un'altra. La polizia, della polizia. Ok. Però devi stare un po' fermo. Così? Così ci entra? Ma papi il punto io... No! No, non venire, non venire. Non venire, non venire ad ammazzarmi a me. Non venire. Vai ad ammazzare le altre. Ho il punto io. Mi scarico queste. Posizione 5, raga. Sono quinto. Io sono fortissimo. Sono quinto, ragazzi. Sono quinto. Vai, vai, qua, qua, qua. Vai, il parco, il parco, che è buono! Vabbè, fine primo tempo. Ma non è il primo tempo. Non lo chiamo il primo tempo, perché... Sono due tempi. Ho un minuto, ragazzi. No! Oh, lo prego! Mangi, lo prego! Ho la corona! Mangi, lo prego! Sì, sì, sì! Ho la corona, ragazzi. Mangi, lo porco, appunto, io! Lo sto mangiando, lo sto mangiando. Se l'ho... L'ho mangiata, ragazzi. Sto vincendo. Per favore. Prendetelo in una casa, una casa! Una casa, sì, 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 sì. Sì. E mangio pure con lui. Vai, vai, vai. Ma mi pare che rinascono. Manca pochissimo alla fine. 30 secondi. Mangiatelo! Eh no, aspetta. Non ci arrivo, non ci arrivo. No, no, niente, hai perso. Dai, me lo voglio mangiare. Ma qualcuno ti danno l'aria. Dai, che lo posso... L'hai mangiato, l'hai mangiato. Posso vincere. Vai, le case, le case qua. Sì, 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 sì. Poche! Poche alla volta, bro. Mi mangio pure questo. Ok. Vai, tutto, tutto. Ho vinto. Hai vinto. 9 secondi alla fine. Hai vinto. 9 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ho vinto per la prima volta, ragazzi. Sei un gatto bravo. Per la prima volta. No thanks. Per la prima volta. Ragazzi, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Posso pure concludere quel video, pure se è di 5 minuti. Ragazzi, non ci credo. Ma se io l'ho fatto di tanto. Ho vinto. Ho vinto, ragazzi. Facciamoci un'altra, dai. Facciamoci un'altra. Sono arrivato primo. Sono arrivato primo, io. Sono arrivato primo. Ma poi... Sono arrivato primo. Sono arrivato primo, ragazzi. Lasciate un botto di like. Un botto di visualizzazione, ragazzi. Mamma mia, mamma mia, cosa? Mi faccio questo. Grazie, Parco. Sparare. Grazie, Parco, che mi hai fatto vincere. Ma qua non hai mangiato manco due cose. Posso mangiarti, ok? Ok. Il palo ti sei mangiato. E chi sei, mamma gloria? Dai, dai, dai. La panchina, la panchina. La panchina. Questo? No. Ancora così piccolo sei. Ma senti, zi. No. No, non mi ammazzare. Quello ti ammazzo. L'albero, l'albero. E l'albero non c'entra. Di eschi, di eschi. No, niente. L'ho detto. No, niente, niente. Deve essere dritto quando... I gatti piccoli. Allora, io mi faccio un altro video. Vado di là. Sto video sarà bene. Dai, ragazzi, dai, dai. Devo vedere la posizione dove sono io. Sesto. Ho perso dalla grande. Ok, il palo. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok. Mangiare alberi. Il parco? Il parco. Proviamo il parco? Ok. Il parco è la cosa migliore. No. No. Quinto 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 ci può stare Dai ragazzi Quinto ci può stare Vabbè l'importante è che io non sono arrivato Sesto A me pure quinto Pure quarto Tanto ho vinto una volta Dai Questa è la penultima Dopo l'ultima e dopo chiudiamo Però mi piace un po' Questo gioco Dai Dai Ok Già No Ok già Il faro l'ho mangiato Questo l'ho mangiato Questo non posso Le persone Le persone ok Sono quarto Proviamo No No Dai ragazzi Dai dai Ok 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 Quarto 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 Io voglio andare al parco Però Non lo trovo Dove è il parco Voglio il parco Voglio il parco Bello penso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quarto 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 ragazzi L'ultimo e dopo chiudiamo L'ultimo e dopo chiudiamo ragazzi Allora ragazzi Posso vincere Posso vincere Allora Vai che posso vincere Dai dai Speriamo Speriamo Oppure Posso arrivare terzo Non mi interessa O terzo o primo Dai Ok Già Gli ho mangiato questo Sono primo Ok Sono primo Sono primo Ecco il parco Questa è la cosa migliore Ragazzi Il parco Il parco È dove Si mangia di tutto Guardate Guardate ragazzi Sono primo Sono primo ragazzi Primo Sono troppo forte Troppo forte sono Se volete sfidarmi Io Sono qua Sono troppo forte Guardate Subito Subito sono diventato grande Subito Guarda 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 Guardate Guardate ragazzi Guardate ragazzuoli Guardate Guardate qua Guardate Mamma mia Mamma mia Uh Fine primo tempo Ragazzi sono primo Ragazzi sono primo A fine Primo Tempo A fine Primo Tempo Ragazzi A fine Primo Tempo Subito Ok Mangiamo pure Sta casa Ci mangiamo pure Questo 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 Ma posso mangiare di tutto Questo Posso O Mangio questo Mangio questo Mangio questo Questo Adesso Adesso Sono primo Ole E ho vinto Ho vinto due volte Vediamo se prendo questo No No Questo No Sono il gigante Guardate Guardate Ho vinto Ho vinto Ho vinto Campione Campione Ole 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 Campione Campione Giù Ho vinto due volte Ho vinto due volte Ragazzi Primo Ho mangiato tutto All'inizio Sono arrivato Primo Subito Perché Avevo il parco Vicino Ragazzi Spero Che questo Video Vi sia Piaciuto Se arriviamo A 15 Visualizzazioni Faremo Farò la seconda Parte E da Mario Giuseppe TV Out Ciao ragazzi Lasciate Like E iscrivetevi Al nostro Canale E non Non Seguite A Giuseppe La Rosia TV Channel Da Mario Giuseppe TV È tutto Ci vediamo Un prossimo video Bella Ciao Grazie a tutti.